buongiorno a tutti secondo appello seduta di consiglio del 5 novembre sono le 11.11 facciamo l'appello teresi assente aiello assente alta donna assente cavaliere assente di gesù assente tiguccia assente losardo presente lucido assente palazzo presente fabile assente otto assenti e due presenti prego presidente allora non c'è non ci sono le condizioni per aprire la seduta e la ritengo appunto chiusa la seduta viene rinviata a domani stessa ora buongiorno a tutti